A partire dagli anni Sessanta ha partecipato a numerosi film del cinema italiano. Spesso come caratterista, prevalente è stata la sua attività di doppiatore per diversi cartoni animati. Come Tom e Jerry, era la voce del padrone di Tom. E i Puffi, nel quale doppiava Gargamella, ha doppiato anche Duffy Ducky in Looney Tunes. Verso la fine degli anni Settanta Pescucci ha collaborato assiduamente anche con la privata radio, Anna, per la quale ha realizzato molti programmi attingendo dal suo vasto repertorio.